musica 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 ma tutti ragazzi sono sempre io e oggi siamo su stick warriors sul mio telefono e niente, aspettiamo un po' cosa c'è nello shop, ok questi sono tutti i personaggi che ho sbloccato voglio arrivare a prendere questi personaggi, altri si shoppano ovviamente perchè non è gioco se non si shoppa andiamo in modalità survival ok sceglierei questo, poi virus e poi questo, ok vediamo un po' che culi riuscirò a fare droid 16 eh piano musica vai proprio lui buttati contro ugo super saian 3 eh si perchè per motivi di copyright non si mette il nome originale dei personaggi poi secondo il gioco dovrebbero esserci solo i personaggi di dragon ball poi vi faccio vedere altro ecco tipo questo non è di dragon ball tipo questo non mi ricordo di dove ecco lo virus vai picchia forte no ma maledetto ma maledetto maledetto eh porco demonio mi deve fa sclerare vuoi far sclerare porco eh ma questo non capisce l'italiano no ma ti faccio vedere io e ma ti faccio vedere io di che cosa sono capace vai 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 rubber a caso che si chiama hunter eh oh por ma john ma john che nervoso porco che è l'ultimo rima ah no c'è un altro c'è cadet non radish poi c'è ugo blu ma dai che sono rimasto solo orco dio muori pezzo di un goku contro ape baby che sarebbe baby alla fine oh non devo parlare va bene mi ha dato lo stesso le monete dettagli allora prendiamo virus perchè ho preso questi due personaggi a caso ho cliccato a caso bene sarà una bella sfida adesso vai ora ti faccio vedere cosa vuol dire morire ecco qua però non è giusto io devo combattere contro non so quanti personaggi e io ne ho solo tre mentre l'avversario ne ha di più però bisogna rivedere un po' questa modalità eccolo lì proprio lui proprio eh ho detto proprio ma capisci l'italiano non lo capisci non lo capisci va bene e muori pezzo di merda ammuffita madonna che due palle ma perchè è così difficile ammazzare questi vai ugo morirai ugo 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 porco di un ugo porco di un ugo vai ricarica vai picchia picchia fai vedere di che pasta si è fatto oh questo dovrebbe essere riu di street fighters porco di un ma si è messo di impegno questo muori come se non ci fosse un domani porco di un demonio e fammi vengere qualche partita e che diamine contro greche questo non mi ricordo chi è eccolo ma va bene ora ti faccio vedere io la combo perfetta e se non vingo questa volta sclero allora si inizia prima così oh e poi ora mi sono reso conto sono senza faccia alla fine personaggi cioè hanno solo il contorno della faccia oh questa volta la devo vincere non me ne frega costi qualche costo perchè junior si chiama princeton ho capito che è il principe dei nomeciani di qualsiasi cosa sto sparando minchiate oh che benessere vederlo morire questo eh madonna oh madonna mi sai il crimine quando hanno così sti personaggi e che diamine ma costa sai morire contro valentine non vegeta quando si è accorto di idee lo chiami valentino bello ora si che mi sta piacendo la sfida ora si che mi sta piace non mi sta piacendo più non mi sta piacendo porco oh vuoi ammazzare porco la donna mi deve far salire proprio il crimine il crimine mi deve far salire questo è più debole di me mi devo far battere da uno più debole di me e che due palle oddio sto personaggio mi ricordo nella serie gt oh ma tutti mi sta facendo fuori ma è veramente un creep da quanto in qua krillin era più alto di me e sono riuscito a vincere perché c'era krillin che era il personaggio più debole adesso testiamo questi personaggi anzi no c'ho krillin utilizziamo krillin contro kadit vai vediamo se dobbiamo fare qualche culo non iniziamo bene madonna che nervoso cioè devi morire per favore prima che mi fai salire il crimine madonna che benesse madonna pezzo di merda mi devi far fare la mia mossa prima che ti ammazza la famiglia vuole la famiglia morta oh freezer si chiama pezza il ricordo di friesa la versione originale porco dio donna il crimine che mi sale dentro di me ma ci vuole assai a morire allora allora perché c'è c'è naruto che si chiama nila grande ed è un naruto tipo molle da come si muove e per questo non lo ricordo chi è sarà un altro di street fighters eccolo lui l'android 16 che per motivi di copyright si chiama droid 16 madonna come eccolo kid boo che si chiama kid boo temshiro muori no 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 ho fatto una vinta sola una facciamo l'ultima di questa modalità passo poi alla prossima modalità ecco qua ora speriamo vada liscio come l'olio perché qui se non vinco non sono felice come sta picchiando porco dio ho detto stai picchiando madonna che nervoso oh diamine sono gli stessi personaggi alla fine perché quelli dell'avversario sono più forti rispetto ai miei guardali che pezzo di merda e non si può non si può è un crimine sto gioco guardalo come spam madonna oh se 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 direi di passare subito al versus allora metterei questo questo visto che ci mettiamo anche virus che si chiama brain speriamo vada meglio questa bene iniziamo proprio di merda iniziamo proprio di merda porco demonio quello brutto e di no un calcio mi da la cosa che mi fa incazzare dei giochi che mettono l'avversario più forte perché deve far salire il crimine mentre giochi come se non ci fosse un domani guardalo da quanti qua il crimine è forte ma dai veramente stiamo messi male guardalo io sto spingendo una mezz'ora a sto tanto ma non fa un cavolo porco demonio e muori bene non mi sono reso conto che si è stoppata la cam direi che vi ho fatto vedere abbastanza di questo gioco beh come primo video ci sta ok io direi di chiudere qua questo video non so quanto duri spero che vi sia piaciuto se si lascia un like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e su altri social link in descrizione e se volete altri video su questo gioco spolliciate niente noi ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale